Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Real Action Rose. Rama Shiro P, alto. Dimensione corporea, altezza K 300 mm. Obiettivo genere, ragazzo. ETH, a partire dall'ET, di 15. La paese principale produzione, Cina. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.